Benvenuti a Acquavita Italia 2010, la terza edizione, siamo a Perugia, la manifestazione durerà tre giorni, 29, 30 e 31 gennaio, è una importantissima manifestazione, mostra mercato nazionale del distillato e noi di LL Comunicazione andremo per stand a conoscere gli imprenditori che ci faranno conoscere anche i loro prodotti e la loro storia aziendale, quindi benvenuti e buon proseguimento con LL Comunicazione.